Il governatore della Toscana Enrico Rossi continua ad andarci con i piedi di piombo sulle riaperture del 18 maggio, ma i sindaci non ci stanno. Sia il primo cittadino di Firenze da Leonardella che quello di Prato, anche nella veste di presidente regionale del Lanci, chiedono maggior raccoraggio ed un incontro urgente con Rossi. Lo abbiamo fatto perché ci sono decisioni che riguardano da vicino le nostre comunità, dicono posso capire il ragionamento del presidente ma dire no alla gente che vuole lavorare in sicurezza è molto difficile. Lanci sarebbe pronta a ragionare su un calendario alternativo a quello del governo ma che si esaurisca nell'arco di pochissimi giorni, tre o quattro al massimo, aggiunge Biffoni, una mediazione tra le posizioni del governatore e dei sindaci appare comunque difficile. Rossi sostiene che con la popolazione regionale immune allo 0,5 per cento frutto dei primi 150 mila test sierologici eseguiti il rischio di una ondata di ritorno del contagio con una riapertura totale sia molto elevato, come fa notare il Corriere Fiorentino, e che sia irrealizzabile a quel punto il protocollo di monitoraggio dei nuovi focolai per il sistema sanitario. Contro questa impostazione ci sono le categorie economiche, come detto i sindaci, ma anche alcuni membri della giunta, alcuni assessori suggeriscono di non forzare la mano in un momento così delicato di adeguarsi alle scelte annunciate dal governo.